Di un po', ci vai ancora in analisi? Sì, non è il momento di smettere. Vista la complessità della mia vita interiore. Anch'io faccio una cosa di quel tipo. Vai da uno strecciato? No, no, ma comunque è una cosa personale. Chi... chi tra di voi... desidera essere amato? Io ero lì, con la mia manina alzata. Sì, desidero essere amato. Ed è lì che hai incontrato qualcuno, vero? Ti ho già detto che non c'entra nessuna donna. Allora cos'è? Perché ci vai? Sì, sono stato toccato, capisci? No. Non è così difficile, papà. Solo un po' di gentilezza. Pensi di farcela? Ad essere un po' più carino con me? E a te come va con gli uomini? Hai trovato uno disposto a trombarti? No, cordo, basta, ha raggiunto il limite. Eh, che è successo? Niente, voglio invitarti a pranzo. Cosa leggi? Papà Gorriot. Ma bello, è molto bello, papà Gorriot. Quando eri piccolo eri un fan di Fred Astaire, poi di Mick Jagger e adesso è di Gesù. Oh, non mi sorprende più niente di te. Cattolico, non è molto sexy. Non ho scelto Hortense. Non sgridarmi. Non ti sto sgridando.